Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, bentornati in un nuovo video. Oggi sono qui per portarvi un focus su quelli che sono i due moduli che più mi vengono richiesti durante le mie live, ossia il 4.4.2 e il 4.2.3.1. Difatti la domanda più ricorrente in assoluto da inizio anno, ma non solo quest'anno ma anche gli altri anni, è la seguente. Riberoski è meglio il 4.2.3.1 o il 4.4.2? Quindi oggi ci facciamo una panoramica su entrambi i moduli e andiamo a cercare di capire insieme se effettivamente ne esiste uno migliore. Allora, direi di partire immediatamente dal 4.4.2 che è un po' il mio modulo di punta, quest'anno togliamo anche il Po visto che è il mio modulo di punta, quello che utilizzo di più. Le tattiche già ve le ho fatte vedere in un video precedente, quello della Top 100, oltre che le potete trovare sempre su Twitch col punto esclamativo tattiche, il comando è in chat. Equilibrata 5.4, equilibrata 5.4. Per quanto riguarda le istruzioni che io personalmente vado a dare, sono le seguenti. Resta dietro ai terzini, copri al centro e resta dietro ai due mediani, il nulla ai due esterni, all'attaccante con più passaggio fai salire la squadra e all'altro inserisci ti alle spalle. Passiamo dunque ad analizzare un po' come funziona il 4.4.2, quali sono gli sbocchi e le opportunità che vi dà. Quest'anno conosciamo un po' tutti quanti come funziona il meta di FIFA 20, ossia avere giocatori agili lì davanti, metterli in condizioni di ricevere la palla in zona pericolosa, di girarsi in maniera imprevedibile su uno dei due piedi forti, cercare di concludere a rete. E il 4.4.2 è sicuramente un modulo che si sposa bene in questo contesto. Perché? Vi dà la possibilità di iniziare a costruire la vostra azione in maniera larga, andando dunque a sfruttare le fasce. Uno dei movimenti che più io vado a prediligere è di impostare la palla a partire dalla fase difensiva, cercando di servire uno dei due terzini, mandare in profondità l'esterno e che esterni vedete qui manetoti e messi la versione 95 IF, e cercare di prendere quanto più campo possibile per prendermi il fondo. Questo perché una volta arrivati sul fondo, la vostra squadra sarà salita e vi avrà accompagnato l'azione. Questo che cosa vi permette? Vi permette praticamente di poter fare qualsiasi cosa. Perché tornando verso il dietro con l'esterno, vi ritroverete sempre il terzino che vi avrà bene o male eseguito, nonostante il resta dietro. E poi vi trovate i due centrocampisti posti uno sopra l'altro nella fase mediana del campo, e questo vi permette non solo di poter andare direttamente poi a servire la punta, ma vi permette anche di poter andare a riallargare sull'altro esterno, e insomma di gestirvi l'azione in maniera tale di andare a cercare di aprire buchi nella difesa avversaria. Il 4-4-2 lo reputo particolarmente efficace perché in un gioco dove c'è tanta CPU in fase difensiva, soprattutto anche se ormai non abbiamo più attacco sul lato della palla, ma ne abbiamo sofferto per tanto tempo, comunque le squadre riescono a chiudersi tanto per quanto riguarda la fase centrale del campo. Di conseguenza l'obiettivo vostro dovrà proprio essere quello con tanta 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 pazienza di creare lo spazio. Spazio che si verrà sicuramente a creare se voi avete una manovra abbastanza lenta, ma che quando arriva negli ultimi 20-25 metri siete in grado di andare a velocizzare, e in particolar modo il movimento classico del 4-4-2 che vi ho spiegato anche in precedenza è proprio quella scaletta, ossia di partire da un lato largo del campo per poi cercare di accentrarsi andando a sfruttare quello che è l'inserimento degli esterni unitamente a quello delle due punte, perché ve ne accorgerete quando provate a fare questo movimento ci sono i vostri giocatori, ovvero le ali e gli attaccanti che faranno sempre, sempre gli stessi movimenti. L'esterno cercherà di buttarsi dentro e le due punte, una cercherà di andare dentro e una verrà incontro con le impostazioni che vi ho messo io. Di conseguenza potete andare a servire l'altra punta e cercare di imbucare poi la palla per uno dei due esterni, per l'esterno, per l'altra punta, che possono girarsi in un fazzoletto e andare a segnare. Sicuramente una delle azioni che più vedete fare, ma non solo con il 4-4-2, ma anche con il 4-2-3-1 come vi andrà a spiegare dopo, ed è una di quelle che negli ultimi anni veramente si porta tanto per segnare, sia su FIFA 18 che su FIFA 20, su FIFA 19 meno, perché ricorderemo tutti che il meta era quel gioco fantastico di tornati, va bene, non apriamo parentesi su FIFA 19 perché mi sento male. Quindi queste sono le impostazioni del 4-4-2 e il motivo per il quale io lo vado a scegliere, perché mi dà possibilità di andarmi a giostrare il pallone tra le due punte ed essere più imprevedibile, perché una volta che voi avete due punte in area di rigore, non una, soprattutto quando hanno tutte e due 5 piede debole, come in questo caso Butraghenio e Dalglish, l'avversario praticamente si ritroverà a marcare paradossalmente 4 giocatori, perché non sai mai se quel Butraghenio va a destra o a sinistra, stessa cosa Dalglish, quindi è come veramente cercare di coprire un fiume che è in piena. Per quanto riguarda il 4-2-3-1, che tra l'altro non ho neanche impostato in queste tattiche, perché quest'anno uso veramente poco, ma è stato il modulo che mi ha accompagnato per tutta la fortunata annata di FIFA 18, possiamo andare a vedere che in questo caso, in maniera molto 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 astratta, è una sorta di 4-4-2, dove i due esterni in realtà vengono a essere COS e COD, ossia occupare una posizione del campo più stretta, e l'attaccante che io faccio venire fuori aria con il fai salire la squadra, viene a essere posto in zona ancora più centrale e viene a fare appunto il COC. I punti forti di questo modulo, oltre a essere una migliore fase difensiva, perché prima che il vostro avversario arrivi a fronteggiare i vostri CTC, verrà schermato prima da quella linea dei 3 COC, e come avete visto, non so se seguite ad esempio i tornei, quando voi a quei 3 COC voi andate a mettere anche ripiegamento in fase difensiva, rientra in difesa, eccetera, eccetera, poi in quel centrocampo voi avete una densità pazzesca che insomma costringe il vostro avversario a dover rallentare sistematicamente la manovra. Per quanto riguarda le istruzioni che io vado a dare, solitamente si tratta di resta dietro ai terzini anche in questo caso, copri al centro e resta dietro anche in questo caso ai mediani, ai COS e ai COD nulla, al COC gli metto di rimanere centrale, e all'attaccante anche in questo caso metto inserisciti alle spalle. L'azione ragazzi è pressoché la stessa, poi ovviamente è chiaro, ognuno ha il proprio modo di attaccare, ogni partita è una partita a sé, le partite lo sappiamo tutti che sono situazionali, quindi se magari avete un avversario che vi concede gli 1-2, andate di 1-2, insomma poi sta anche alla vostra capacità di adattarvi, alle singole situazioni. Ma fondamentalmente l'azione è sempre la stessa, cercare di servire due COS larghi, per poter poi rientrare verso il centro, dare la palla al COC, imbucare o per la punta o per uno dei COS o COD che entra in area, e cercare di concludere a rete. Il motivo per il quale io però il 4-2-3-1 non lo vado tanto a preferire quest'anno è il fatto è che secondo me in area di rigore che voi ci abbiate Renove Moments o chiunque altro, una sola punta, nonostante questo spesso venga a ricevere quello che è il supporto dei vostri giocatori offensivi, non basta. Io preferisco avere due punte che siano già belle piazzate lì e con le quali andarvi a giostrare il pallone. Ciò non toglie che comunque il 4-2-3-1 rimane uno dei moduli più utilizzati anche all'interno del competitivo ed è sicuramente uno dei moduli che anche io, nonostante non lo usi, preferisco di più. Però reputo, per quello che riguarda il meta, il 4-4-2 più efficace anche in relazione al mio stile di gioco. E qua arriviamo a un altro tema fondamentale. Perché, come vi ho detto in precedenza, la domanda che più mi fate ma qual è meglio, il 4-4-2 o il 4-2-3-1? Bene, la risposta, ragazzi, non c'è. Perché il miglior modulo è il migliore in quanto voi riuscite ad utilizzarlo alla perfezione, non perché il modulo preso così è buono, non esiste nessun modulo che qualora voi andate ad applicare vi fa diventare tex e vi fa vincere le partite. Voi dovete cercare di costruire una vostra propria identità di gioco e cercare di adattare con l'identità di gioco poi ad uno stile di... ad un modulo, insomma, ad una formazione. Non dovete mai fare condizionare il vostro stile di gioco invece dal modulo. Dici, cavolo, Principe usa il 4-2-3-1, voglio usarlo anche io, il 4-4-2 lo usa Ribera e allora lo devo usare anche io. No, sbagliatissimo. Il miglior modulo è quello con il quale voi riuscite a giocare e riuscite ad attaccare, riuscite a difendere, riuscite a vincere le partite. E inoltre non esiste neanche un qualcosa di immediato che voi appunto andate a piazzare quel modulo e già siete nati imparati. Il tutto è comunque frutto di un processo di apprendimento perché quest'anno io sono passato al 4-4-2 e le prime volte, le prime partite, anche la prima settimana, la seconda settimana è stato difficile perché ogni modulo ha i suoi meccanismi, le sue dinamiche nelle quali bisogna entrare. Una volta poi masterate allora voi vi potete permettere il lusso di poterlo andare ad applicare in tutte le situazioni. perché un'altra domanda che mi fate è cavolo, ma il mio avversario gioca col 4-2-3-1 come posso contrastarlo? Sbagliato. Non dovete mai o la maggior parte delle volte andare ad applicare un contromodulo ad un altro modulo perché voi dovete cercare di imporre il vostro gioco al vostro avversario con quella che è la vostra migliore formazione non dovete andare troppo a farvi pippe mentali su come cercare di reagire al massimo dovete cercare di andare a mettere quest'idea nella testa del vostro avversario motivo per il quale a me un'altra domanda che mi fate è ma tu usi sempre il 4-4-2? Io dico sì io uso sempre il 4-4-2 l'unica volta che magari cambio è quando voglio recuperare le partite e allora metto magari una difesa a 3 un 4-2-4 eccetera ma io ho una mia identità di gioco chiara che mi sono costruito nel corso del tempo e con quella riesco a dominare la maggior parte dei miei avversari e a giocarmela con tutti quindi in definitiva vi ho fatto una rapida panoramica su dei moduli e vi ribadisco il fatto che non esiste una formazione migliore in assoluto ma esiste la formazione migliore per voi e come lo scoprite qual è la formazione migliore per voi giocando costruendo una vostra identità di gioco e cercare di capire qual è la formazione migliore che sposa le vostre idee e il vostro modo di giocare quindi spero che questo video vi sia tornato utile vi possa aver tolto qualche dubbio fatto passare qualche ansietta qualche complesso e niente ci vediamo tutti i giorni in live su twitch dalle 12 alle 16 e io vi saluto ciao ragazzi peace